ci troviamo insieme al presidente della pallavolo feltre cristiano strazzabosco per vedere come sta andando l'attività in vista della prossima stagione con l'esordio in serie c bene adesso ci stiamo allenando da diverso tempo ci stiamo allenando bene siamo riusciti a utilizzare le palestre fortunatamente già da appunto dal mese di luglio e da metà agosto abbiamo iniziato a tempo pieno diciamo è fatica si fa fatica perché non abbiamo riscontri dobbiamo solamente allenarci fino adesso non siamo mai riusciti a trovarci e far qualche partitina perché il periodo qui non ce lo permette ma adesso in prossimità del del campionato bisogna che intensifichiamo appunto gli allenamenti e sempre sempre perché non lo siamo a poter fare delle amichevoli comunque stiamo arrivando diciamo in maniera quasi ottimale all'inizio del campionato che per noi è ancora un diciamo un cantiere aperto per quel che riguarda il discorso il discorso squadra ma ci stiamo dando da fare per poterlo affrontare il migliore di modi e nel frattempo è partita comunque l'attività normalmente quella del mini volley del settore giovanile sì allora il mini volley deve inizierà a giorni e quindi anche lì vedremo cosa come si potrà operare con questo problema legato al coronavirus è stato è stato impegnativo il discorso per poter fare iniziare tutti quanti i gruppi abbiamo cercato di fare in modo che i gruppi siano distanziati come orari di allenamento uno dall'altro non è semplice però ci stiamo ci stiamo dando da fare stiamo seguendo tutti quanti i protocolli dettati dalla fippa e anche a livello comunale quindi abbiamo fatto tutto il possibile per ridurre al minimo i rischi di contagi la speranza è sempre che si possa andare avanti e noi quello che possiamo fare lo facciamo insomma